Pronto soccorso di Pesaro, ospedale San Salvatore, 31 marzo, ultimo giorno di lavoro dell'ex primario del pronto soccorso Umberto Gnudi, ultimo giorno di lavoro dall'azienda ospedaliera Marche Nord. Gnudi ha aperto una falla che non si sta rimarginando, ci sono state altre 5 dimissioni di medici nei giorni scorsi. Ieri c'è stata anche una riunione straordinaria con l'assessore regionale Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità, per cercare di arginare questa falla che non fa altro che aggravare il problema di personale a Marche Nord. Riunione tra l'altro alla presenza dei vertici dell'azienda, compreso il direttore generale Maria Capalbo. Oggi la manifestazione del PD per sottolineare tutte queste inadempienze, a cominciare dal ringraziamento a Gnudi, dall'imbocca al lupo al nuovo direttore Giancarlo Titolo, ma poi tante situazioni che vanno enfatizzate secondo il PD, dal deficit di personale a quello delle guardie mediche, a quello del centro per l'autismo che continua a tardare, a quello dell'ospedale, sulla scelta dell'ospedale con la bocciatura del vecchio progetto dell'ospedale di secondo livello, fino all'incompiuta del San Benedetto. PD che ha manifestato, non si è visto invece il movimento Io apro al rinascimento di Umberto Carriera, che aveva intimato una contramanifestazione in questa giornata. C'è stato il PD, non c'è stato Io apro, nonostante il dispiegamento di forze per quella che ci risulta tra l'altro essere una manifestazione per cui non era stata richiesta autorizzazione. C'è stato il PD, c'è stata la manifestazione e questi sono gli argomenti trattati. L'occasione che Gnu di termine il suo servizio, perché si dimette, è un modo per dirgli grazie. Ovviamente sappiamo che la vita continua, il San Salvatore continua, i problemi restano, per cui siamo vicini a chi sostanzialmente prende la direzione del pronto soccorso, il dottor Titolo, e tutto lo staff medico, paramedico, sanitario, infermeristico, che continua a vivere ancora in uno stato di emergenza, perché c'è una carenza cronica di personale e la Regione non sta in qualche modo affrontando in maniera adeguata questa emergenza. L'occasione del 31 marzo è stata anche l'occasione per ribadire tutti gli elementi di criticità e di smontaggio che la Giunta regionale sta facendo sulla sanità. Nel corso di due anni il numero del personale medico all'interno del pronto soccorso di Petro si è praticamente più che dimezzato, perché se i primi mesi del 2020 c'erano circa un poco meno di 40 medici, oggi ci ritroviamo, appena dopo due anni, che i medici sono oltre la metà. Questa è una situazione insostenibile, anche perché probabilmente se non si riesce a trovare una soluzione la Regione sarà costretta ad assumere persone o meglio a prendere persone all'esterno, quindi o dalle cooperative o attraverso realtà private. Era stato promesso che sarebbero arrivati circa 13 medici, di cui 8 legati all'emergenza e urgenza, e 5 medici che avevano un profilo tipo chirurghi o cardiologi, cioè sono quei medici che possono comunque lavorare all'interno del pronto soccorso, a tre mesi da questo annuncio fatto in consiglio regionale non è arrivato nessuno, anzi sono aumentate le persone e i medici che vanno via.